Grazie a tutti 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 Medusa Buongiorno Mamma mia Buongiorno Andrea Buongiorno Grazie a tutti Quanto Quanto abbiamo fatto? Ora dobbiamo vedere da 9 a 8 quanto è passato. Angela quanto è passato? 1 ora 26 e 19, 20, 21, 22. Vuoi vedere quanto fai in un video? Sì. Vuoi sapere? Ora, io poi non dico ora.